Vedo che già siete moltissimi, io sono Michela Di Bitonto di Forma S.p.A. e oggi modererò questo webinar. Oggi partiamo con un ciclo di webinar dedicati alla partecipazione nella pubblica amministrazione. Oggi sarà con noi la nostra regatrice Laura Manconi, la collega di Forma S.p.A., esperta di partecipazione pubblica. Parleremo in particolare delle forme di coinvolgimento e dei metodi che le pubbliche amministrazioni possono adottare per coinvolgere la cittadinanza nei processi partecipativi. Bene, vedo che mi sentite, vedo già che molti stanno scrivendo in chat. Questi webinar che stiamo organizzando sono organizzati nell'ambito di un progetto, azioni di sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione e anche con strumenti telematici. Inoltre, questi webinar si introducono in un progetto congiunto tra Dipartimento delle riforme istituzionali e Dipartimento della funzione pubblica con il supporto di Forma S.p.A., con l'obiettivo di rafforzare le politiche di consultazione e di consapevolezza anche delle pubbliche amministrazioni e quindi di avviare un percorso di cultura dell'amministrazione aperta. Negli scorsi mesi abbiamo già organizzato tre webinar, in particolare sulla consultazione pubblica, che potete andare a vedere su Eventi IPA, sono disponibili sia i materiali che le registrazioni. Abbiamo esplorato tutto il percorso che porta alla progettazione, al design, allo svolgimento di una consultazione pubblica per poi esplorare anche una fase molto importante che è quella della restituzione dei risultati e quindi dei feedback sulla consultazione. Quindi se questo argomento vi interessa vi invito ad andare su questo link, questi link che vedete sottolineati sono attivi, quindi andare sulle pagine dedicate ai studenti IPA e potete rivedervi le registrazioni o anche scaricare i materiali condivisi dai docenti. Invece gli appuntamenti prossimi di questo mese, avviamo questo ciclo dedicato proprio alla partecipazione nella pubblica amministrazione, abbiamo diversi appuntamenti che potrebbero anche cambiare nel corso di questi giorni, quindi si potrebbero aggiungere altri appuntamenti. Per ora quelli più definitivi sono già pubblicati su Eventi IPA, quindi potete già andarvi a registrare. Abbiamo lunedì 9 dicembre la presentazione dell'esperienza del comune di Milano con l'assessore di Parini, il 16 dicembre invece alle 9.30 l'esperienza del comune di Parma con l'assessore Paci e poi altri due appuntamenti ancora da definire con le esperienze del comune di Reggio Emilia e della rete civica di Milano, quindi vi invito a cliccare a questo link in basso a sinistra dove potete vedere l'elenco di tutti i webinar organizzati nell'ambito del progetto, quindi già realizzati o in realizzazione, a cui appunto vi potete già iscrivere, quindi là vedete tutta la lista completa dei webinar del progetto. Allora vi ricordo tra pochi minuti avvieremo il webinar con la dottoressa Manconi, vi ricordo che potete porre in chat le domande al relatore, noi alla relatrice anzi, noi le selezioneremo e le porremo durante o al termine del suo intervento. E ricordo a tutti che sia la registrazione che i materiali, quindi le slide condivise oggi verranno pubblicate su eventi PA, in particolare in questa pagina dove avete la presentazione del webinar e il programma. Vedo che già siete parecchi, quindi direi di entrare nel vivo del tema di oggi con la collega Laura Manconi che ci parlerà delle forme di coinvolgimento che le pubbliche amministrazioni possono attivare per attivare processi partecipativi di coinvolgimento della cittadinanza. Ecco Laura, ti vedo, buongiorno, allora ti do la parola. Buongiorno a tutti, sì, io non vedo ancora visibili le slide, non so se... Grazie Michela. Allora, buongiorno a tutti, come diceva Michela nell'introduzione, questo webinar è dedicato a presentare, illustrare un po' il panorama delle pratiche partecipative in Italia. Chi ha seguito il ciclo precedente di webinar ha avuto un approfondimento soprattutto sulle consultazioni come strumento di ascolto dei punti di vista e dei suggerimenti delle proposte che arrivano dai cittadini che possono quindi intervenire e collaborare all'interno di processi decisionali pubblici. Nell'intervento di oggi invece vi presenterò quello che è diciamo lo scenario della partecipazione, quali sono le modalità più diffuse, alcune delle esperienze che mi sembrano anche più interessanti da segnalarvi. La partecipazione è una prassi abbastanza antica nella pubblica amministrazione, non è un'attività recente. Da sempre la pubblica amministrazione ha attivato iniziative di ascolto dei cittadini per riuscire in qualche modo a intercettare i bisogni, a raccogliere le esigenze, a mantenere un canale di relazione attivo con i cittadini, anche al di fuori dei momenti che sono quelli canonici di coinvolgimento dei cittadini, cioè le scadenze elettorali, quindi i momenti nei quali all'interno di processi democratici si esprime la volontà dei cittadini se leggono i propri rappresentanti. Questo tipo di processi di ascolto nel tempo ha avuto un'evoluzione, che è quella alla quale stiamo assistendo ora, che è dovuta principalmente a una domanda che è cresciuta particolarmente negli ultimi anni da parte dei cittadini di partecipare attivamente all'interno dei processi decisionali, di essere ascoltati, di poter esprimere la propria opinione su iniziative assunte dalla pubblica amministrazione che li riguardano direttamente. Questa domanda di partecipazione nasce da una serie di fattori. Nel contesto europeo, che è quello all'interno del quale ovviamente ci muoviamo, troviamo un riscontro importante anche a livello di principio all'interno del Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona è il documento che disegna l'Unione Europea come la conosciamo oggi, è un documento che è stato emanato nel 2017, è diventato operativo nel 2009, contiene due principi importanti che in qualche modo rafforzano e stanno dietro questa pratica di partecipazione e questa domanda di partecipazione. Il primo principio riguarda quello che viene chiamato principio di prossimità, cioè l'Unione Europea dice che i cittadini hanno diritto a che le decisioni che li riguardano siano presi dalla pubblica amministrazione il più possibile vicino a loro. Il secondo è proprio un principio di coinvolgimento dei cittadini, cioè l'Unione Europea dice sempre nel Trattato di Lisbona che è importante e essenziale che le pubbliche amministrazioni nel momento in cui prendono delle decisioni coinvolgano in varie forme i cittadini. Questi principi trovano poi realizzazione sul piano pratico in alcune iniziative che l'Unione Europea, la Commissione Europea ha preso. Innanzitutto, ed è quello che vedete di segnalo, è il diritto d'iniziativa dei cittadini europei. È possibile all'interno dell'Unione Europea raccogliere firme, in questo caso c'è una soglia che è quella del milione di firme. Se si raccolgono milioni di firme è possibile presentare all'attenzione della Commissione Europea iniziative, proposte, progetti che vengano fuori da esigenze che sono sentite dalla collettività dei cittadini, degli stati che fanno parte dell'Unione Europea. Il diritto iniziativa è quindi un diritto che abbiamo tutti in quanto cittadini dell'Unione Europea e che può essere espresso attraverso questo sito che raccoglie le firme, che presenta le iniziative aperte. Vi faccio un esempio, per esempio questa è la lista delle iniziative che sono state negli ultimi anni presentate e che sono riuscite, cioè che hanno raggiunto il milione di firme necessario, sono state oggetto di attenzione e di intervento da parte della Commissione. Come vedete la prima iniziativa del 2017 che riguarda per esempio il divieto di utilito del glifosato, che è un pesticida tossico che in Unione Europea non è possibile usare. Questo tipo di attenzione della Commissione verso questi temi discende dal fatto che è stata presentata un'iniziativa sottoscritta da cittadini europei perché questo diventasse un tema all'attenzione della Commissione. La Commissione Europea spinge anche la partecipazione attraverso la forma della consultazione. Questo che vedete è un esempio del sito del portale della Commissione Europea che ospita le consultazioni. Qui vedete quali sono le consultazioni aperte in tutti gli Stati europei. È uno strumento che può essere anche utilizzato dagli Stati per promuovere consultazioni. Le pubbliche amministrazioni europee possono, se il tema della consultazione viene considerato di interesse generale, quindi che può interessare Stati e amministrazioni di più Paesi europei, presentarlo utilizzando gli strumenti che mette a disposizione la Commissione, che quindi in qualche modo sostiene quei principi che sono sanciti nel Trattato di Lisbona anche attraverso azioni concrete, in questo caso utilizzando lo strumento delle consultazioni e mettendo a disposizione delle amministrazioni che desiderano usarle una piattaforma e degli strumenti per poterlo fare. Questa domanda di partecipazione e la possibilità di coinvolgere anche i numeri elevati di persone all'interno di processi partecipativi legati a politiche pubbliche, vi dicevo si è affermata negli ultimi anni, si è affermata anche grazie al fatto che esistono delle tecnologie che consentono di abilitare la partecipazione dei cittadini, ovviamente sto parlando di internet, sto parlando della diffusione della connettività e dell'accesso a internet più o meno ovunque, della diffusione di tecnologie e strumenti che consentono di essere sempre connessi e di piattaforme e di strumenti online che sono progettati e pensati per abilitare la partecipazione. Quindi vi dicevo all'inizio la partecipazione è una pratica antica, non è una cosa che nasce ieri, però si sta avvantaggiando del fatto che esistono tecnologie e strumenti sempre più alla portata di tutti che consentono di partecipare a coloro che vogliono esprimere la propria opinione e far sentire alla pubblica amministrazione il proprio punto di vista. Questa domanda che arriva dai cittadini ha trovato una risposta non solo a livello europeo su quelle che sono le indicazioni e le strategie e gli orientamenti della Unione Europea, ma più in generale rispetto all'evoluzione del modello di governance degli ultimi anni all'interno di un modello di governo che viene chiamato del governo aperto che considera la partecipazione dei cittadini un elemento fondamentale. Questo l'avrete già visto, immagino che molti di voi l'abbiano già visto, è uno schema che descrive i principi che stanno alla base del modello del governo aperto. Come vedete un elemento fondamentale è ovviamente la trasparenza, che è un elemento fattore abilitante della partecipazione. Gli altri due elementi che vedete evidenziati nello schema sono la partecipazione e la collaborazione, quindi tutte quelle modalità di presa di decisione che normalmente sarebbero modalità gestite all'interno degli uffici, all'interno delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche che invece in una logica di governo aperto traggono vantaggi ad essere aperte, ad essere inclusive, in qualche modo quindi diventano parte dell'agire della pubblica amministrazione. A questi tre elementi ne manca un quarto, che è quello che viene detto della accountability, cioè l'importanza di prevedere non solo di essere trasparenti nella propria azione, ma anche di rendere conto dei risultati del proprio operato, quindi vedremo anche negli esempi dei risultati che vi farò vedere più avanti, come questo approccio, quest'idea di coinvolgimento, di inclusione dei cittadini e di apertura, trova riscontro anche all'interno di pratiche di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini che aiutano la pubblica amministrazione ad essere più accountable, cioè a rendere meglio conto del proprio operato e delle decisioni prese verso i cittadini. Il modello di riferimento, il modello di governance che vi dicevo, che nasce da quest'idea del governo aperto, è di fatto un modello di tipo collaborativo, cioè l'idea che le amministrazioni possano collaborare con altri soggetti che possono essere altre PA, ma possono essere anche i cittadini in forma singola o associata, attraverso delle regole formali o informali. Cosa vuol dire? Ci può essere una partecipazione, c'è una partecipazione che discende da obblighi di legge, ci sono moltissimi esempi di processi partecipativi che la pubblica amministrazione svolge perché esiste una normativa di riferimento, pensate per esempio alla normativa di settore, alle valutazioni di impatto ambientale, a quello che accade nella sanità, solo per fare alcuni esempi, in cui è prassi il fatto che la pubblica amministrazione debba coinvolgere o gli stakeholder o soggetti che in qualche modo sono destinatari delle attività o di un particolare intervento della pubblica amministrazione o sono depositari di conoscenze di tipo specialistico che sono utili a finalizzare il processo di presa di decisione, ma anche i cittadini o le associazioni di cittadini all'interno delle decisioni. L'esito di questo tipo di approccio al governo aperto e collaborativo è che le decisioni pubbliche non sono più il risultato di processi verticali ma orizzontali, quindi di processi decisionali in cui tutti i soggetti coinvolti e interessati da quella decisione sono posti sullo stesso piano e condividono lo stesso tipo di informazioni. Questo è un elemento importante perché è un elemento che dà qualità ai processi partecipativi. Il fatto di porre tutti, in particolare i soggetti destinatari che si vuole coinvolgere, ascoltare, nelle condizioni di poter esprimere un parere informato rispetto alla decisione che si intende prendere. Lo vedremo più avanti poi nella presentazione. Questo tipo di governance collaborativa è particolarmente efficace all'interno di processi decisionali complessi, di quei processi multiattori in cui si devono ascoltare molti punti di vista e si devono prendere decisioni spesso anche molto complesse o che hanno un impatto forte sulle collettività e sui territori. La partecipazione all'interno di questo tipo di modelli di governance ha alcuni vantaggi, io ve ne evidenzio alcuni. Il primo elemento che mi premeva a segnalarvi è che i processi partecipativi aumentano la visibilità dell'operato pubblico, quindi anche in termini di comunicazione e di informazione hanno un impatto molto forte. Sono processi che mettendo attorno allo stesso tavolo i diversi punti di vista ai diversi attori permettono ai cittadini di avere un confronto immediato sulle posizioni emergenti, cioè capire quali sono i punti di vista, quali sono gli interessi e le posizioni che vengono rappresentate. In molti processi partecipativi, per esempio, il vantaggio è rappresentato dal fatto che si ascoltano punti di vista che normalmente all'interno di processi di partecipazione di tipo più strutturato e consolidato non sarebbero inclusi, non avrebbero possibilità di esprimersi, quindi si ha un arricchimento in termini di acquisizione di informazioni e di conoscenza relativamente a un problema. La partecipazione favorisce l'efficienza delle politiche pubbliche, favorisce la presa di decisioni di qualità. come dicevo prima, è particolarmente utile in una logica di accountability perché genera un circuito virtuoso fra PI e cittadini in termini di rendicontabilità dell'azione della pubblica amministrazione. è particolarmente importante ed è un motivo per cui molti processi partecipativi sono promossi e realizzati e perché aiuta nella composizione di conflitti legati alle scelte dei decisori pubblici. Molto spesso le decisioni prese dalle istituzioni, soprattutto quelle che hanno un impatto forte sulle persone e sulle comunità generano conflitti, prendere quelle stesse decisioni attraverso metodi e pratiche di tipo partecipativo e di ascolto consente spesso di ridurre le conflittualità, ovviamente non di eliminarle perché è evidente che qualunque decisione viene presa dalla pubblica amministrazione ha un impatto e troverà persone favorevoli e persone contrarie, però aiuta a ricomporre i conflitti. Le pratiche di tipo partecipativo normalmente vengono classificate secondo una scala di intensità che è quella che vedete riassunta in questa slide. Normalmente si va dalle pratiche di livello più semplice, più base, che sono quelle di tipo informativo con un crescendo di intensità e di coinvolgimento fino ad arrivare alle pratiche di vero empowerment, cioè di coinvolgimento dei cittadini in maniera attiva e di affidamento ai cittadini di gestione di attività che vengono in qualche modo delegate dalla pubblica amministrazione che riconosce ai cittadini il ruolo di poter concorrere al benessere e alla realizzazione degli obiettivi che normalmente sarebbero propri della pubblica amministrazione attraverso modalità varie di gestione, di affidamento e di collaborazione tra PA e cittadini. Le pratiche partecipative possono essere utilizzate in tutte le fasi di presa di decisione. Ovviamente esiste una differenza nel senso che le pratiche di partecipazione più virtuose sono quelle che includono o prevedono metodi o spazi di tipo partecipativo nelle fasi iniziali, cioè quelle che all'interno di questa scaletta che vedete nella slide sono le fasi iniziali di analisi, di azione, di progettazione, quindi ancora fasi in cui la decisione non è ancora stata presa, in cui il parere espresso da chi partecipa alla consultazione può avere un esito, può avere un effetto, può in qualche modo condizionare. Nel quadro normativo di riferimento della PA italiana la decisione è sempre in capo alla pubblica amministrazione, cioè il processo di tipo partecipativo non presuppone mai una cessione di competenza, di potere da parte della PA. Però ci sono diverse gradazioni, ci sono molti casi in cui attraverso normative, attraverso prassi abbastanza consolidate la pubblica amministrazione che promuove un processo partecipativo mantiene ovviamente la responsabilità e l'onere di assumere la decisione finale, ma è vincolato dagli esiti del processo di partecipazione. Cosa significa? Che deve tenere conto di quello che viene fuori, deve tenere conto delle osservazioni, delle indicazioni che arrivano da coloro che partecipano al processo partecipativo e in qualche modo deve considerare ai fini della decisione quello che è emerso dal processo partecipativo e deve motivare i casi in cui i contributi non possono essere invece considerati. Quindi il contributo dei cittadini e dei soggetti che fuori dalla pubblica amministrazione partecipano, concorrono alla presa di decisione, deve essere in qualche modo reso trasparente ed essere noto a tutti i soggetti che partecipano. Vedremo che ci sono esperienze sia di processi partecipativi nella fase iniziale, quella di presa della decisione, ma ci sono anche delle esperienze importanti utili anche nella fase di attuazione e valutazione, quindi con diverse gradazioni, con diverse modalità i cittadini possono essere inclusi anche in quelle fasi in cui comunque la decisione è già stata presa, non si possono modificare i progetti, le iniziative in atto, ma si può comunque dare un contributo alla pubblica amministrazione in termini di feedback sul risultato o sull'attuazione di quella decisione. Dicevo prima che è un elemento importante all'interno di questi processi ragionare secondo una logica di tipo orizzontale in cui tutti i soggetti che partecipano hanno accesso alle stesse informazioni e sono quindi in grado di conoscere, di partire da una base di conoscenza comune che consente quindi di esprimere poi un parere informato. Vi dicevo prima che l'idea di avere un modello di riferimento di governance aperta nasce da un paradigma che è quello che abbiamo visto, quello del governo aperto. Questo tipo di modello di governo è sostenuto a livello internazionale da un'iniziativa che si chiama Open Government Partnership che è stata lanciata nel 2011, alla quale l'Italia ha aderito fin dal 2011. La partecipazione dei paesi all'iniziativa OGP viene attuata attraverso un documento che si chiama operativi per dare concretezza a quei principi che vi richiamavo prima, quindi trasparenza, partecipazione, collaborazione e accountability e dichiara una serie di impegni che gli stati assumono per in qualche modo stimolare e spingere la propria pubblica amministrazione verso modelli sempre più aperti. Questo tipo di documenti viene prodotto per ogni ciclo di programmazione. Siamo arrivati adesso al quarto piano d'azione nazionale. in Italia la governance dell'iniziativa OGP sta in capo alla Presidenza del Consiglio di Ministri al Dipartimento della Funzione Pubblica che dall'inizio gestisce, quindi dal 2011 da quando l'Italia è entrata a far parte dell'iniziativa OGP gestisce questa iniziativa. Nel rispetto di quei principi dell'apertura e dell'inclusione, il processo di stesura del piano nazionale d'azione per l'open government viene fatto in maniera partecipativa. Cosa significa questo? Significa che già dalla prima fase di analisi di azione del documento sono realizzati una serie di incontri con soggetti istituzionali e con rappresentanti della società civile per raccogliere i punti di vista, le esigenze, per capire quali possono essere i temi chiave, quelli più di interesse e più strategici da inserire nel piano d'azione. Viene realizzata una prima bozza del documento che viene posta in consultazione. Questa che vedete è la pagina del sito che ha ospitato la consultazione sul testo del quarto piano d'azione nazionale sull'open government, che è stato quindi pubblicato in bozza e che poteva essere commentato. Una volta che si è conclusa questa fase sono stati raccolti i commenti e è stata redatta la versione definitiva del documento che è quello che attualmente regola l'impegno assunto dall'Italia per il quarto piano d'azione, quindi per il periodo 2019-2021. Il piano è pubblicato sul sito di riferimento dell'iniziativa GP in Italia, che è open.gov.it, dove potete vedere il testo del documento che quindi deriva da questo processo di consultazione e potete anche monitorarne l'attuazione. Tutti gli impegni assunti nel piano sono monitorati. Il monitoraggio delle azioni del piano è affidato alle associazioni della società civile che collaborano all'interno di questo processo che vi ho descritto sin dalla fase di stesura, poi per tutta l'attuazione con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il quarto piano GP contiene un impegno specifico, l'azione 4, di supporto alla partecipazione, che raccoglie tutta una serie di impegni assunti dal governo italiano proprio per stimolare, spingere, incentivare le pubbliche amministrazioni a promuovere processi di tipo partecipativo e inclusivo. Questo tipo di monitoraggio e di ascolto viene fatto in maniera strutturata attraverso un organismo che si chiama Open Government Forum, che è composto dalle associazioni che collaborano con il governo nella realizzazione del piano e che periodicamente si riuniscono per fare il punto sullo stato di avanzamento, per ragionare insieme con le amministrazioni che sono titolari e responsabili degli impegni su come sta procedendo, su qual è lo stato dell'attuazione, su quali sono le criticità. Quindi è un processo che ha incluso la componente partecipativa fin dalla fase iniziale che se la porta dietro con modalità diverse, quindi all'inizio nella stesura del piano attraverso strumenti di partecipazione online, nella fase di attuazione attraverso momenti di incontro e di in presenza, per garantire quindi che ci sia una presenza e un contributo costante da parte della società civile rispetto a quella che è l'azione del soggetto pubblico. Un'altra modalità di partecipazione dei cittadini all'interno di processi decisionali che si richiama a quel modello di governance collaborativa e che è stata introdotta abbastanza di recente nell'ordinamento italiano è quella del dibattito pubblico. Il dibattito pubblico è uno strumento di partecipazione che nasce in Francia e nasce soprattutto per includere la cittadinanza all'interno di processi decisionali che riguardano la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, quindi di opere che hanno un forte impatto sui territori, che hanno anche un impegno di spesa rilevante, che includono interessi molto forti e che tendenzialmente generano molti conflitti. Secondo il modello francese che è stato poi mutuato in Italia, il dibattito pubblico viene realizzato principalmente per informare la comunità che vive nel territorio che sarà interessato dalla realizzazione di quell'opera pubblica sul progetto. Vengono realizzati incontri pubblici che devono essere ovviamente promossi e adeguatamente pubblicizzati nei quali il soggetto promotore e le collettività interagiscono e discutono sul progetto. Gli esiti di questo processo di discussione devono essere considerati ai fini della conclusione della fase progettuale, perché il dibattito pubblico deve essere realizzato nella fase preliminare, quando ancora non è stato concluso il progetto, perché può avere una efficacia sulla progettazione, cioè il progetto iniziale può subire modifiche a seguito di quello che emerge dal dibattito pubblico. Nel modello francese, che è un modello molto articolato, è coordinato da un'autorità terza che gestisce tutti i dibattiti pubblici promossi in Francia, è una modalità molto strutturata che ha avuto anche grandi risultati in Francia e che per questo motivo è stata poi recepita anche in Italia. Per farvi un esempio, l'anno scorso, quando è esploso in Francia il fenomeno dei gilets jaunes, delle manifestazioni di protesta in tutto il paese, il governo francese ha utilizzato lo strumento del dibattito pubblico per promuovere un grande dibattito nazionale, che ha coinvolto tutte le collettività locali, ha visto in prima linea i sindaci, gli incontri si svolgevano sul territorio coinvolgendo le collettività attraverso le municipalità. E' stato usato proprio come strumento per cercare di affrontare in maniera collettiva quello che stava accadendo, quindi in qualche modo dare modo alle persone che stavano manifestando, esprimendo dei bisogni che non erano fino a quel momento stati recepiti e raccolti dal governo centrale, di poterlo fare secondo un processo strutturato che consentisse poi al governo di poter ricavare degli elementi sui quali lavorare, capire quindi su quali politiche agire, quali interventi realizzare. E' un'esperienza estremamente interessante che vi segnalo, se avete curiosità, perché è stato il primo caso in Europa di utilizzo dello strumento del dibattito pubblico in queste dimensioni e per affrontare un problema come quello che si è verificato in Francia. In Italia il dibattito pubblico è stato introdotto ugualmente per interventi di tipo infrastrutturale, è normato attraverso l'articolo 22 del codice degli appalti pubblici, ha molti elementi di vicinanza, di similitudine con quello che è il modello francese, anche se in Italia non esiste un organismo terzo come nel modello francese, però la logica di funzionamento è la stessa, cioè quella di istituire un momento di confronto e di discussione tra soggetti proponenti, PI e collettività per i progetti che hanno un forte impatto sulle collettività locali. Vi faccio adesso alcuni esempi di interventi di tipo normativo che hanno in qualche modo facilitato la partecipazione. Il dibattito pubblico, come vi ho detto, nasce da una norma statale, stiamo parlando del codice degli appalti, ci sono negli anni regioni italiane che per sostenere la partecipazione hanno promosso iniziative di tipo legislativo, l'ha fatto la regione toscana, la regione toscana è la prima regione in Italia che si è dotata di una legge regionale sulla partecipazione. Il motivo per cui vi segnalo la regione toscana non è solo per il fatto che ha una legge regionale sulla partecipazione, ma perché ha scelto di lavorare all'iter legislativo utilizzando metodologie di tipo partecipativo. Il processo che ha portato alla tesura e all'emanazione della legge 69 del 2007 sulla partecipazione è stato di tipo partecipativo, cioè la regione toscana ha scelto di utilizzare uno strumento che si chiama e-town meeting per ascoltare le persone che sul territorio volevano partecipare al processo di redazione del testo normativo. Come è stato realizzato questo percorso? È stato un percorso che è durato mesi, le persone sono state preparate e coinvolte attraverso una serie di attività di informazione, di diffusione delle informazioni sul testo della legge, sulle finalità, su quali erano anche gli obiettivi che si voleva raggiungere attraverso la legge regionale. Questo processo di ascolto e coinvolgimento ha trovato il suo culmine in questa giornata che si è realizzata a Carrara, il 18 novembre 2006, che ha visto partecipare 500 persone, ha coinvolto 80 facilitatori, lo strumento che è stato utilizzato, questa che vedete è un colpo d'occhio della sala che ospitava l'e-town meeting per la discussione sul testo della legge regionale della partecipazione, vi dicevo è stato scelto uno strumento che si chiama il town meeting, che di fatto è una modalità, il town meeting è una metodologia abbastanza strutturata di gestione di processi partecipativi sui grandi numeri, in questo caso è stato fatto un mix tra quel modello di partecipazione e le tecnologie, cioè man mano che i tavoli lavoravano e che i facilitatori raccoglievano i contributi, le osservazioni venivano messe sul computer, le opinioni poi venivano proiettate su degli schermi attraverso un sistema di televoto, si poteva arrivare a prendere delle decisioni in modo da far sì che gli esiti del lavoro di ciascun tavolo fossero noti a tutti i partecipanti e che si potesse raccoglierli in maniera ordinata per poterli poi utilizzare come report da sottoporre all'assemblea legislativa per poi arrivare alla stesura della legge. Perché vi ho segnalato questo caso del town meeting della regione toscana? Per darvi un'idea del fatto che i processi partecipativi sono processi molto complessi, sono complessi perché tendenzialmente muovono molte persone, richiedono competenze anche di tipo specifico, in questo caso per esempio essendo un processo di partecipazione finalizzato a raccogliere proposte utili alla stesura di un testo normativo, c'è stata molta attività preparatoria di informazione, ai tavoli le persone che sedevano con i partecipanti sono state formate, i facilitatori sono stati formati, c'erano persone coinvolte che avevano anche delle competenze di dominio legate ai temi che si stavano discutendo, quindi sono state coinvolte persone che avevano competenze sia di tipo giuridico che sui processi partecipativi, perché ovviamente serviva a far sì che questo grande sforzo fosse il più possibile produttivo ai fini della presa di decisione. Quando si realizzano processi di tipo partecipativo, l'obiettivo della pubblica amministrazione è sempre quello di avere un risultato che può utilizzare, cioè non si realizzano azioni di partecipazione solo per ascoltare l'opinione o per partecipare, si realizzano perché c'è un obiettivo, si vuole avere un risultato, quel risultato deve poi essere utile ai fini della presa di decisione, quindi è uno sforzo che deve essere sostenuto in maniera adeguata in termini di progettazione, in termini di tempo, di risorse destinate e di persone che ci lavorano. Qua vedete qual era la composizione di quelle 500 persone in sala, le fasce di età, la proporzione uomini-donne, nel livello di istruzione. In realtà se andate sul sito della Regione Toscana c'è moltissima documentazione su questa esperienza ed è molto interessante perché è una delle poche esperienze italiane di redazione di un testo legislativo attraverso una modalità di tipo partecipativo. In Italia lo strumento partecipativo più utilizzato nella pubblica amministrazione è senz'altro il bilancio partecipativo. Il bilancio partecipativo è una forma di partecipazione dei cittadini che sono chiamati a dare indicazioni su come assegnare una quota di bilancio dell'ente locale. È tra le più antiche perché considerate che la prima esperienza di bilancio partecipativo in Italia è del 1994, la realizzò il comune di Grottamare. Da allora è stata realizzata in moltissimi casi, anche a livello mondiale è una delle modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini più diffusa perché per quel principio di vicinanza se vi ricordate di cui parlavo all'inizio, in realtà la partecipazione ha un vantaggio dal fatto di essere realizzata vicino ai cittadini e ovviamente più è vicina, più è a contatto con i bisogni e con le esigenze della comunità, più è efficace. Per questo motivo le pratiche partecipative realizzate per esempio a livello locale sono quelle più produttive, quelle più facilmente replicabili e utilizzabili. E questo è uno dei motivi anche del successo del bilancio partecipativo nel mondo e in Italia. Questa che vedete è la schermata del sito della Municipalità di Parigi, il comune di Parigi, la Merì di Parigi realizza da tanto iniziative di bilancio partecipativo. Vi ho messo questa schermata per darvi l'idea che non è una metodologia che utilizzano solo i piccoli comuni, è molto diffusa, è diffusa a qualunque dimensione, l'ha fatto anche recentemente Roma, si è concluso proprio il mese scorso un'iniziativa di bilancio partecipativo che si chiamava Roma Decide. Non c'è un unico modello di riferimento, esistono alcune regole fondamentali, alcuni principi base per l'inclusione dei cittadini all'interno di processi di questo tipo, ma poi ogni amministrazione, ogni comune si progetta il bilancio partecipativo secondo le proprie esigenze. Lo strumento di bilancio partecipativo non discende da un obbligo di legge, cioè non c'è un vincolo, i comuni non sono obbligati a utilizzarlo. E' una scelta volontaria, perché evidentemente l'amministrazione riconosce il valore in termini di coinvolgimento, di contributo dei cittadini a utilizzare questo tipo di strumento. Normalmente il bilancio partecipativo è regolato da regolamenti ed è disciplinato anche da altre regole meno formali che sono i patti di partecipazione. Questo che vedete è il sito del bilancio partecipativo del Comune di Milano, che è una delle amministrazioni in Italia, che peraltro racconteremo con uno dei prossimi webinar. Il patto di partecipazione è normalmente il documento nel quale sono elincate le modalità attraverso le quali si partecipa, i principi, quali sono le modalità, le finalità e le fasi del processo. Un elemento molto importante del bilancio partecipativo, al di là ovviamente della chiarezza e della progettazione di tutte le fasi di svolgimento, è ovviamente la fase di attuazione. Quello che è importante è, dopo che sono stati votati i progetti, che cosa succede, quali sono quelli che vanno avanti, come avanzano i lavori, in che modo posso io, che magari ho contribuito proponendo o andando a votare, il progetto che io ho votato, che fine ha fatto. Nei siti delle amministrazioni che hanno promosso processi partecipativi normalmente vedete molto spazio dato alla parte di feedback e di stato dei lavori, questo è sempre il sito del Comune di Milano, che ha una grafica molto efficace per far vedere come stanno avanzando i lavori sui progetti georeferenziati su mappa. Anche il Comune di Bologna ha una grande esperienza che discende da azioni ormai realizzate più volte negli anni di bilancio partecipativo, anche loro ovviamente dedicano molta attenzione al modo con cui viene comunicato tutto quello che accade dopo il voto, quindi come stanno avanzando i lavori, che cosa si sta facendo. Una cosa carina che vi segnalo è che essendo il bilancio partecipativo uno strumento molto utilizzato e anche uno strumento sul quale si fanno anche molte sperimentazioni. C'è questa società che si chiama Bpart che ha inventato un gioco in una logica di gamification, un gioco che si chiama Empaville ed è un gioco di ruolo che aiuta a capire cosa succede durante un bilancio partecipativo, quindi può essere usato per insegnare la partecipazione all'interno di processi di questo tipo, quindi come si partecipa all'interno di un processo finalizzato all'individuazione di progetti da finanziare ed è una cosa carina per coinvolgere o comunque per insegnare a collettività o per esempio anche coinvolgendo i ragazzi delle scuole come funziona questo strumento di partecipazione. Sempre ragionando su forme di collaborazione e coinvolgimento che non discendono da obblighi di legge ma che vengono realizzate in maniera autonoma, abbiamo detto il bilancio partecipativo, un'altra modalità che si sta molto diffondendo di collaborazione e coinvolgimento dei cittadini è quella legata al concetto di beni comuni. I beni comuni ovviamente hanno dietro anche una definizione di tipo normativo, in questo caso si intendono tutti quei beni materiali e immateriali a cui l'amministrazione riconosce un'importanza, un ruolo anche in termini di benessere, di importanza per la collettività e si legano, discendono direttamente da quello che viene chiamato e definito nell'articolo 118 della Costituzione, il principio di sussidiarietà. La prima città in Italia che ha adottato un regolamento dei beni comuni è stata Bologna nel 2014, questo perché esattamente come nel bilancio partecipativo questo tipo di forme di collaborazione non discende da norme di legge ma viene regolata attraverso atti che le amministrazioni assumono, quindi nel caso dei beni comuni normalmente c'è un regolamento e poi ci sono anche qui dei patti di collaborazione che vengono sottoscritti tra la PA e in questo caso l'ente locale e i cittadini. Il patto di collaborazione normalmente è una cosa molto specifica, in questo caso io ve ne ho messo uno che riguarda una proposta di gestione di un'area verde, normalmente nel patto vengono definiti i ruoli e chi fa cosa, quindi che cosa riguarda quell'intervento, chi sono i soggetti che partecipano, le modalità, qual è il tipo di sostegno che l'amministrazione comunale dà a quell'iniziativa, quindi in qualche modo definisce le regole attraverso le quali cittadini e ente locale collaborano per il raggiungimento dell'obiettivo che è quello di tutelare un bene che è considerato di importanza per l'intera collettività. Un altro caso che vi segnalo è Napoli, Napoli appunto vi ho detto, Bologna è stata la prima città italiana che ha dotato un regolamento dei beni comuni, Napoli è stato il primo comune italiano che si è dotato di un assessorato sui beni comuni nel 2011 e che ha normato, ha ragionato su quelli che potevano essere i beni comuni soprattutto in termini di modelli di gestione. Napoli ha lavorato molto su quelli che si chiamano beni comuni urbani e sul fatto che si potessero rendere nella disponibilità dei cittadini della collettività spazi che magari erano in stato di abbandono, che non erano gestiti, ma i quali si riconosceva un valore proprio in termini di vantaggi e opportunità per la cittadinanza, quindi una forte spinta per la gestione collettiva degli spazi comuni. Un progetto molto bello che discende da questa iniziativa e che vi segnalo è quello del recupero della gestione dell'ex asilo filangeri a Napoli, che appunto è un bene dato nella gestione della collettività, è uno spazio nel quale vengono fatte attività di tipo culturale e che quindi è stato donato nuovamente alla cittadinanza attraverso il lavoro delle persone e delle associazioni che ce l'hanno in gestione. Questo approccio di coinvolgimento dei cittadini sui beni comuni è ormai diffusissimo, quest'altro esempio che vi segnalo è Torino. Torino ha recentemente lanciato un progetto che si chiama COSITI, che è un progetto realizzato insieme con l'università e con ANCI, ugualmente per la gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, quindi è una cosa molto vicina all'esperienza che vi ho raccontato di Napoli. È un progetto di recupero anche qua di spazi e di beni urbani che il Comune di Torino realizza attraverso il coinvolgimento di una rete di associazioni, in questo caso la rete delle case di quartiere, che è un progetto molto bello di associazionismo a Torino che promuove la partecipazione e forme di collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini, che diventa partner in questo caso del Comune per realizzare le iniziative e i patti di collaborazione che sono previsti nel progetto COSITI. Sul tema dei beni comuni, su quello che viene fatto in Italia, su quale è lo stato dell'arte, c'è un'associazione che è l'ABSUS, che non solo supporta i comuni che vogliono sottoscrivere i regolamenti, ma che fa anche un'attività di osservazione e di monitoraggio sulla diffusione di questi strumenti. Se questo tema vi interessa c'è un report, questo è l'ultimo disponibile, è un report del 2017 sulla diffusione di questo strumento, ci sono una serie di elementi quantitativi che aiutano a capire per esempio anche chi sono i cittadini che partecipano ai progetti di questo tipo, per esempio una cosa interessante all'interno dell'amministrazione locale, chi sono i soggetti coinvolti, come vedete per esempio dal grafico sulla destra la maggior parte dei progetti vedono il coinvolgimento diretto dei dirigenti dell'amministrazione comunale, vedete quali sono le aree prevalenti, quindi su quali tipo di intervento si realizzano i patti di collaborazione, quindi ovviamente molto riguarda il verde urbano, l'area d'urbano, però ci sono moltissimi interventi che riguardano anche le scuole, che riguardano l'inclusione sociale, quindi è una cosa che vi suggerisco una lettura interessante perché dà un'idea di quello che si muove a livello locale legato a queste forme di collaborazione e di coinvolgimento dei cittadini. Perché accadono tutte queste cose a livello locale? Perché in realtà le città, come vi dicevo, per un fatto di vicinanza, di prossimità, sono un laboratorio molto interessante, molto innovativo di forme di collaborazione, di spazi, anche di riconoscimento della città come un valore, come un bene da tutelare da parte di tutti, quindi è un modello che vede l'amministrazione pubblica e i cittadini partecipare e concorrere insieme. Le città sono un laboratorio interessante per la partecipazione anche dal punto di vista dell'innovazione digitale, per esempio tra le tecnologie e le piattaforme per la partecipazione dei cittadini più interessanti che negli ultimi anni si sono affermate diffuse, molte sono nate in ambito locale, questa che vedete è la piattaforma di partecipazione della Municipalità di Barcellona, che è una di quelle che si sta di più diffondendo anche a livello europeo, è stata riusata da molte amministrazioni e che nasce per gestire i processi di partecipazione della città di Barcellona. Ci sono molti altri esempi, ci sono diverse tipologie di tecnologie che vengono usate per gestire i processi di partecipazione, la tecnologia sta diventando un fattore molto importante a supporto dei processi partecipativi, alcune volte modalità esclusiva, cioè assistiamo a iniziative di partecipazione che per gli obiettivi, per il numero di persone che intendono coinvolgere, prevedono modalità di svolgimento esclusivamente online. Ci sono invece molte attività iniziative di tipo partecipativo che invece prevedono modalità miste. Negli esempi che vi ho fatto prima, per esempio del bilancio partecipativo, tipicamente il bilancio partecipativo è una di quelle modalità di partecipazione che si avvantaggia delle tecnologie ma che normalmente non viene realizzato esclusivamente online. Questo perché uno degli obiettivi della partecipazione è l'inclusione e far sì che la maggior parte delle persone possibili possa partecipare ed esprimere la propria opinione e quindi tipicamente accade che anche dove ci sono piattaforme online, dagli esempi che vi ho fatto vedere, Milano, Roma, Bologna hanno delle piattaforme, hanno degli spazi online che ospitano il processo di bilancio partecipativo, abbinano a quella parte online anche delle modalità in presenza, per cui ci sono assemblee, ci sono incontri, chi non ha accesso a internet e non può esprimere il proprio voto attraverso la piattaforma normalmente può farlo attraverso altre modalità che sono più analogiche, per esempio coinvolgono gli URP, coinvolgono i punti di ascolto di presenza sul territorio dell'amministrazione comunale, quindi in qualche modo si cerca di salvaguardare la possibilità delle persone di partecipare ma si utilizza per il vantaggio e le opportunità che offre anche la tecnologia e in questo momento siamo fortunati, c'è molta tecnologia, ci sono molti strumenti che aiutano i processi di tipo partecipativo. Vi dicevo prima, esiste una forma di coinvolgimento o di partecipazione dei cittadini nelle fasi anche di attuazione e di monitoraggio delle politiche, vi faccio degli esempi che sono legati in questo caso ai dati che riguardano l'attuazione dei fondi strutturali, quindi di quella che è la politica di coesione in Italia. Sui dati che riguardano l'attuazione dei programmi cofinanzati dai fondi SIE esistono dei portali, quindi ci si può informare sullo stato dell'attuazione, ma esistono anche delle iniziative, in questo caso le due che vi faccio vedere sono Moniton, che è un'iniziativa di monitoraggio civico che riutilizza i dati sull'attuazione dei programmi per fare appunto un'attività di monitoraggio dal basso, di monitoraggio civico su come quei progetti sono realizzati, sullo stato di attuazione, dove stanno ed è possibile contribuire in qualunque momento. C'è poi una bellissima iniziativa di monitoraggio civico che coinvolge le scuole, che si chiama scuola di open coesione, in cui i ragazzi delle scuole e le classi delle scuole vengono coinvolte in progetti di monitoraggio civico, adottano un progetto, scelgono un progetto del loro territorio, della città in cui abitano, che è stato finanziato con i fondi SIE, lo analizzano, lo studiano, vanno a vedere qual è lo stato di avanzamento e poi restituiscono con dei report il loro lavoro, quindi danno modo alla pubblica amministrazione di avere un feedback rispetto a quello che sta avvenendo sui territori con le risorse dell'Unione Europea. Questo tipo di progetti, quindi di monitoraggio dal basso, si avvantaggia del fatto che, sempre per effetto di quel modello di governo aperto di cui parlavo all'inizio, la pubblica amministrazione non solo ha aperto i propri processi decisionali, ma ha aperto anche i propri dati, ha iniziato a diffondere in modalità aperta le informazioni che deteneva. Questa che vedete è l'home page, molti di voi la conosceranno, del portale nazionale dei dati aperti, che raccoglie e espone i dati che vengono pubblicati dalle pubbliche amministrazioni. Questo enorme patrimonio di dati è a disposizione di molti dei processi di partecipazione, di coinvolgimento e di collaborazione di cui ho anche parlato in questo intervento. Queste che vi ho presentato sinora sono iniziative di collaborazione e partecipazione che vedono più i cittadini collaborare in varie forme. Esistono poi delle forme di partecipazione che nascono dal basso, che nascono al di fuori di un rapporto consolidato di partecipazione dei cittadini e sono quelle che trovano riscontro in quello che viene chiamato civic hacking, cioè di iniziative che nascono da persone che hanno abilità, competenze, che mettono a disposizione della collettività e anche della pubblica amministrazione per risolvere i problemi di tipo generale. In Italia ci sono alcune cose interessanti e carine fatte da persone che si definiscono civic hacker e che quindi partono dal basso. Una di queste, anche se non la vedremo ora, era un'iniziativa che è nata subito dopo il terremoto del 2016, che era un'iniziativa di raccolta dati e sostegno e diffusione dell'informazione sul terremoto fatta da un gruppo di persone che mettevano a disposizione i dati raccolti attraverso i dati aperti e altre piattaforme per essere di aiuto nei momenti immediati dopo il terremoto, di ricostruzione, di invio dei soccorsi alle collettività. Un'altra iniziativa che nasce dal basso è quella che ha portato all'introduzione anche nella normativa italiana di quello che viene chiamato il foglio italiano, cioè l'accesso civico generalizzato, che è stato introdotto in Italia nel 2016 e che nasce da un'iniziativa dal basso e che ha avuto e ha varie modalità di utilizzo in forme appunto di coinvolgimento, monitoraggio da parte dei cittadini dell'azione pubblica. Questa che vi faccio vedere è un'attività di data journalism che è stata realizzata per la prima volta nel 2017 utilizzando proprio il FOIA, è una mappatura della diffusione del rispetto dell'obbligo vaccinale da parte delle regioni che è stata realizzata da un giornalista che è Riccardo Saporiti, utilizzando dati che attraverso il FOIA sono stati chiesti alle ASL di tutto il territorio italiano. La prima inchiesta è stata pubblicata da World nel 2017, nel 2018 è stata aggiornata, è stata fatta una nuova richiesta, sempre tramite FOIA, per poter aggiornare i dati sulla copertura vaccinale. I dati aperti sono utilizzati anche per altre iniziative di monitoraggio civico dal basso su temi di importanza, di rilevanza soprattutto sui temi etici. In questo caso l'iniziativa che vi segnalo è Confiscati Bene, Confiscati Bene è un portale che dà visibilità a come vengono riutilizzati i beni confiscati alla criminalità organizzata. È un portale che viene costantemente aggiornato e che vuole in qualche modo promuovere la trasparenza e le iniziative di monitoraggio civico che consentono quindi di dare visibilità a come lo Stato sta riutilizzando e riempiegando quei beni che sono tornati nella disponibilità delle collettività. Anche questo si avvale del contributo di persone che hanno competenze di tipo tecnico, che sanno utilizzare i dati aperti, che li sanno elaborare, che li rendono disponibili in modo facile e comprensibile a tutti per poter essere informati su come quei beni sono riutilizzati. Ugualmente è stata attuata un'iniziativa di civic hacking su altri temi, in questo caso è una mappa degli incendi, quindi come vedete sono tutte iniziative e applicazioni che servono a informare, rendere i cittadini più consapevoli di quello che sta avvenendo, di quello che avviene nei territori, utilizzando, riusando in questo caso dati che la pubblica amministrazione rende disponibili a tutti. Io mi scuso di essere stata così lunga, ovviamente questa è una panoramica, sono solo alcune delle modalità attraverso le quali si può fare partecipazione. Eccomi Laura, grazie mille, mi auguro di essere stata chiarissima, ci hai incansato tutti, non solo lunga, la tua presentazione che è stata interessante e chiara, penso di potermi fare da portavoce a tutti gli uditori di oggi. Infatti tra l'altro non ci sono domande, più che altro hai simulato anche qualche commento, comunque una voglia appunto di essere un po' di partecipazione nelle persone che ci hanno ascoltato oggi e credo che questa introduzione sia molto utile anche per i prossimi webinar che si svolgeranno nelle prossime settimane, in quanti aprono una prospettiva sulle diverse forme di partecipazione che poi vedremo attuate nei diversi progetti degli enti locali che inviteremo a parlare, appunto Milano, Reggio Emilia, Parma. Quindi io ti ringrazio moltissimo, ringrazio anche i nostri partecipanti e ti invito ad iscriversi ai prossimi webinar, quindi a tenersi aggiornati sui eventi PA. Quindi se a questo è. Grazie a tutti e buona giornata, arrivederci. Grazie.